se non siete del canale non guardate questo video perché noi esistiamo sei incapace cazzo vai via non rifai rifai non vai via rifai madonna che hai fatto si vede la porta eh no l'ho comprato su amazon a 7 euro prendiamo due pollettini pugnetto eh cosa stai facendo tranquilli che uscirà piano 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 non entri nell'inquadratura stai raga tranquilli che prossimamente uscirà un nuovo video quindi tipo tra due o tre giorni come la facciamo quella la quella la quella quella la è 6ix9 no no filippo no ehm devi metterti la mia pezza no se ne accorgo ok e vi farò sapere aspetta vi farò sapere quando questa principessa aprirà il suo canale che cosa pubblicherai nel tuo canale youtube va benissimo tutto questo calcio questa felpa sembra un triangolo no come si chiama un trapezio la mia sorellina aprirà il suo canale youtube davvero? è che lei è ancora piccola che ha il quotiente intellettivo di una pera perché te hai sangue quindi ho detto vabbè aspettiamo che lei compie compia 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 compa sai che devo andare che devo andare cosa? ehm sai che tu credo sia l'unica persona che ti toglie il cerume delle orecchie non possiamo di non parlare di cerume delle orecchie è già passato d'alloween non è passato eh ma il video uscirà penso spero il 5 novembre beh se no cioè se ho detto a cazzo le lascio perché devo dire cazzo poi mi demonetitano il video cazzo sai che volevo eccola di nuovo volevo fare il video di quanto guadagno con youtube perché quindi mh 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 cavolo cavolo dato che mi piacciono così tante tante cosa ho detto ho deciso di chiamarla felpa demoni mh 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 sto cercando di fare dovrei fare forse più vlog no in realtà non è che abbia molto da dire sì non hai detto niente uno uno ti si spaccati pure la gamba finiamolo staccandolo tre due uno Oh